Cari amiche e cari amici di Rossini TV, bentornati, bentornati all'appuntamento con C'è Campo Obiettivo Salute, terza stagione. Per la terza stagione abbiamo il nostro graditissimo ospite, il dottor Marco Fravisini. Dottore, buonasera. Buonasera. Il dottor Marco Fravisini, riminese doc, viene quindi da poco più di 30 km da questa struttura e viene da un percorso universitario che ovviamente è stato caratterizzato dalla sua appartenenza emiliana, quindi Università Bologna, un bellissimo percorso, peraltro maturato con il massimo dei voti, è un percorso che da medico nasce come medico ortopedico perché c'è un episodio nella vita del dottor Fravisini che gli ha fatto capire quanto sia importante dedicarsi a un qualcosa che magari a un certo punto ti succede. Sì, certo. Diciamo che la mia vita lavorativa è collegata anche a quello che mi è successo, quindi io studiavo medicina, giocavo a calcio, come tantissimi… giocavo a calcio, a tennis e mai per lo sport è sempre stato molto importante, ho avuto un infortunio, ho conosciuto il mio chirurgo, il mio ortopedico che mi seguì e mi operò ai legamenti crociati e da allora è nato questo feeling e questo interesse per la chirurgia del ginocchio e è abbinata anche alla chirurgia sportiva e anche alla traumatologia degenerativa, quindi è un connubio tra qualcosa che mi è successo e qualcosa che ho iniziato a amare. Che peraltro ci fa comprendere anche un concetto importante, in poche parole hai incontrato anche un mentor, è un qualcuno che comunque le ha fatto scattare questa scintilla avendo operato il suo ginocchio, ma le ha fatto comprendere come effettivamente si possa fare un percorso importante, quindi è davvero una cosa determinante conoscere persone che lasciano un segno. Certo, molto, nel senso che nel nostro percorso diciamo c'è qualcosa che ci fa cambiare strada o ci fa amare una strada e quindi per me è successo anche di aver subito quello che poi dopo, su cui dopo ci lavori e ci studi, quindi mi fa anche comprendere meglio la patologia e anche i sintomi, quindi questo è stato un legame forte tra quello che mi è successo e quello che poi faccio. E anche l'approccio sicuramente psicologico alla persona perché sapendo cosa vuol dire chiaramente la persona che è di fronte al medico poi viene compresa meglio. Non a caso infatti nel 2014 il dottor Fravisini è stato premiato dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, pensate, come uno dei cinque migliori chirurghi emergenti. Quindi giovanissimo, grandi risultati che adesso noi vogliamo affrontare anche su un argomento davvero interessante perché essendo super specialista del ginocchio, il dottor Fravisini è anche un innovatore, quindi giovane età, innovazione e oggi quando capita di dover fare delle protesi al ginocchio ci sono davvero stati dei passi da giganti nella tecnologia. Sì, diciamo che come la tecnologia è un po' entrata in ogni campo della nostra vita, pensiamo ai cellulari, pensiamo alle televisioni, pensiamo agli aerei, anche nella nostra pratica chirurgica la tecnologia ci viene in aiuto, quindi sempre di più ci sono dei sistemi di robot, sistema di navigazione che danno un aiuto al chirurgo a eseguire al meglio il proprio intervento. Io ad esempio vengo dal congresso degli Stati Uniti in America a San Francisco dove quasi tutte le ditte si stanno spingendo, stanno esercitando i propri sforzi per cercare dei sistemi tecnologici che consentano al chirurgo di operare al meglio. Quindi la tecnologia robotica è quella che negli ultimi anni sto cercando sempre di più di sviluppare e ho notato che mi consente di aumentare la qualità, diciamo, della mia chirurgia. In cosa consiste esattamente, appunto, chirurgia robotica? Ma allora, l'intervento di protesi di ginocchio è un intervento ampiamente già nella nostra pratica, no? Sempre di più il paziente adulto, anziano, ha delle richieste funzionali sempre maggiori, quindi vuole tornare a giocare a tennis, vuole andare in montagna, vuole sciare, vuole fare jogging e quindi il ginocchio si deteriora e viene da te per una soluzione al suo problema. Quindi l'intervento di protesi di ginocchio è, cioè la sostituzione del ginocchio è l'intervento che ti consente, se le terapie non sono andate a buon fine, ti consente di dare una soluzione definitiva a questo problema. Quindi la tecnica robotica è come un terzo braccio, diciamo, consente al chirurgo di essere più preciso, più accurato, più riproducibile in quello che fa e consente quindi di come dare al paziente il proprio impianto ideale, quindi si studia prima il ginocchio e si pianifica quello che vogliamo fare e in sala operatoria hai come un terzo braccio che guida la tua mano nell'eseguire al meglio i tagli ossei e la pianificazione del tuo intervento. Ha detto una cosa importante, si arriva all'intervento dopo un percorso, cioè prima ovviamente si provano altre strade, quindi terapie, fisioterapia? Certo, perché diciamo che l'intervento è un po' la fine del percorso, l'intervento viene eseguito soprattutto quando gli esami strumentali ci dicono che non c'è più strada, quindi abbiamo ad esempio un'articolazione completamente usurata, quindi osso su osso, ma prima di arrivare a questo diciamo che la terapia, la riabilitazione, la terapia riabilitativa e anche il buonsenso, il viver bene, sono dei concetti che ci consentono di portare questa usura dell'articolazione il più a lungo possibile, quindi la fisioterapia, l'idrochinesi terapia, l'acqua, la piscina, la ginnastica, la rieducazione posturale, l'ostiopatia e anche la terapia infiltrativa sono i passi iniziali in questa strategia terapeutica che puoi proporre a un paziente. Sì, anche il viver bene, fondamentale il viver bene, quindi il movimento, l'attività fisica e lo sport. Certo, sport, attività fisica, ci metto anche alimentazione perché chiaramente è un altro aspetto importante del viver bene e consente un benessere che può portare il più tardi possibile un'eventuale sostituzione protesica o intervento. Peraltro questi interventi molto spesso riguardano anche sportivi importanti, sportivi che grazie proprio alle protesi riescono a rimettersi in campo. Ce ne sono degli esempi nel tennis per esempio, abbiamo uno dei cosiddetti big four che si chiama Murray, Andrew Murray scozzese, che attraverso la protesi all'anca si è rimesso in piedi per giocare, dottore. Assolutamente, quindi questo per far capire un paio di cose. Innanzitutto che l'attività sportiva è poi consentita anche con le protesi. Chiaro che stiamo parlando di uno dei big four, quindi uno che sicuramente ha delle qualità che non sono da tutti, però c'è una compatibilità tra la protesi e anche l'attività sportiva. E questo è importante per capire gli alti, l'alta percentuale di successo che si può avere con un intervento di questo tipo. Come dico, Murray è un paziente ideale in questo, anche se poi dopo magari esagera, no? Perché ci vuole sempre un po' di buonsenso anche in queste cose. È un appassionato sportivo, l'abbiamo capito, anche medico sportivo, traumatologia sportiva, cioè quindi affronta tante situazioni in cui si va incontro facendo sport quando appunto si esagera. Quindi il buonsenso va applicato. Assolutamente, io seguo tante squadre sportive, ho iniziato col calcio, quindi seguendo il Cesena, seguendo il Rimini, adesso sto seguendo le squadre di basket e noto sempre di più. E anche seguo, ad esempio, sono il medico responsabile della federazione di triathlon e soprattutto in quel mondo lì vedo come il paziente difficilmente si vuole fermare dopo un infortunio, vuole recuperare il più breve tempo possibile e quindi certe volte bisogna pianificare al meglio con una strategia insieme al fisioterapista, insieme al preparatore, i tempi di ripresa per un recupero allo sport. Perché il ritorno allo sport è sempre un tema molto delicato, no? Quando segui gli atleti e quindi ci vuole un'equipe che ci stia dietro sicuramente. Certo, poi basket, quindi è quel momento nel quale poi anche tanti giovani si approcciano allo sport. Magari vediamo ragazzi dotati di una certa altezza, che hanno un certo fisico, che si indirizzano verso determinati sport piuttosto che altri. E anche questo è un ragionamento logico, dottor. Certo, assolutamente. Le caratteristiche di ogni paziente, di ogni atleta, dirigono un po' l'attività sportiva. E' vero anche che ormai quasi tutti gli atleti sono fisicamente impressionanti. Adesso seguo, quando segui le squadre sportive, ormai anche le altezze sono cambiate. Quasi tutti sono fisicamente preparati. Anche il calcio, il basket, il tennis, sono tutti atleti che da un punto di vista fisico sono eccellenti, sicuramente. A proposito di tennis, facciamo una divagazione anche per proprio affrontare un argomento che è alla portata di tutti in questo periodo, visto con un campione come abbiamo in Italia, Yannick Sinner. Sono tanti i giovani che si approcciano al tennis e adesso c'è anche questo sport parallelo che si chiama padel, che è comunque molto facile da praticare e sicuramente invoglia tanti a mettersi un po' alla prova. Assolutamente sì. Io ad esempio sono un tenista che ho sempre amato il tennis. Quando c'è il padel ho virato un po' verso il padel. Il padel è sicuramente uno sport più immediato, meno tecnico. Il tennis richiede una preparazione tecnica un po' più importante. Il padel è più divertente. Subito riesci a fare la tua partitella con gli amici senza neanche troppe lezioni, anche se poi è bello approfondire ogni sport perché ci sono più livelli. Quindi è chiaro che sia il tennis prima ma anche soprattutto adesso il padel bisogna stare molto attenti perché gli infortuni sono molto frequenti. Il padel è un gioco veloce, è un gioco che si fa spesso poco preparati, poco allenati, con attrezzature dell'ultimo minuto. Quindi sicuramente è sempre più anche una pratica ambulatoriale vedo lesioni legate a questi sport praticati. sempre di più però sempre con meno preparazione e questo porta a infortuni legati a usura e legati ad esempio al menisco è una delle strutture più soggette a questo tipo di infortunio perché cambi di reazione, torsioni e quindi diciamo alcune strutture sono più soggette a questo tipo di infortunio. quindi bisogna sempre molta fare attenzione, bisogna prepararsi e bisogna non prendere lo sport sempre solo come un divertimento ma anche come una preparazione adeguata. E per esempio per quanto riguarda le ginocchia, di cui lei è super esperto, è importantissimo anche creare intorno alle ginocchia il supporto muscolare. Certo, assolutamente sì, perché diciamo sono il nostro motore, no? L'articolazione deve essere come scaricata dalle torsioni, dalle sollecitazioni proprio con un'adeguata preparazione muscolare che non è solo la forza, diciamo. Deve essere anche proprio un po' l'agilità, un po' l'abitudine al tuo gesto sportivo quindi se tu giochi a tennis o a baschia devi riprodurre un po' gli sforzi che hai in quello sport e questo è molto importante proprio per evitare e prevenire gli infortuni quindi il concetto di prevenzione diventa un concetto fondamentale per evitare futuri interventi ad esempio. Anche e soprattutto perché l'ha già detto il dottor Fravisini oggi tutti vogliono continuare a fare sport, a giocare nonostante l'età che avanza, nonostante si passi dagli enta agli anta e quindi in quel caso lì diventa ancora più fondamentale un approccio proprio giusto da un punto di vista mentale per prepararsi. Assolutamente, assolutamente. Io ricordo anche solo i miei genitori a 50, 55, 60 anni pensare che potessero fare sport era incredibile adesso tutti fanno sport, tutti vogliono giocare poi qui siamo in un territorio di mare quindi anche in spiaggia vedi tutti che giocano vogliono qualsiasi età e quindi questo da un lato è molto bello è indice comunque di benessere, di star bene però dall'altro è usurante quindi sicuramente l'età che avanza deve essere ancora di più seguita e ci deve essere prevenzione in quello che si fa. Anche perché poi fare sport significa stare bene anche mentalmente è chiaro che si scarica e si ha quella sensazione di esserci. Assolutamente giustissimo. Dottor Fravisini, grazie, anche oggi è stato davvero un piacere essere con lei, la ringraziamo tantissimo perché i nostri ascoltatori sicuramente avranno avuto dei consigli utili e decisamente pratici. Grazie ancora. Grazie, grazie. Un saluto a tutti voi, appuntamento a lunedì prossimo dal salotto di Fisioradi. Buona serata. Grazie a tutti voi, appuntamento a lunedì prossimo